e ciao a tutti ragazzi del jtf clan io sono jtf retentive e sono qui oggi sul canale del clan con questo nuovo video raga oggi siamo qui a portarvi un qualcosa di veramente spettacolare si tratta infatti di un record del mondo fatto da zombie scusateci se vedete due gameplay di fila fatto da zombie però purtroppo anzi per fortuna zombie ha fatto questo gameplay che record abbiamo deciso di caricarlo siccome questo record comunque siamo consapevoli che verrà presto battuto oggi vi portiamo comunque il nuclear più veloce al mondo fatto su modalità core quindi nucleo e non veterano fatto appunto dal nostro zombie sulla mappa firing range con l'arma icr come specialista se non sbaglio era il battery perché si utilizzava gli esplosivi quindi era il battery e nulla per altri dettagli sulla classe scrivete in chat e magari zombie vi risponderà per darvi i dettagli appunto su come ha fatto questo gameplay giocava in gruppo da 3 quindi non era in solo quindi questo record raga sapete che vale per core per il solo e comunque per il gruppo scusate non in solo è comunque un record del mondo appunto è stato fatto in 160 secondi ovvero circa 2 minuti 40 è un tempo abbastanza lento per quelli che saranno in futuro gli standard di gameplay veloci però è comunque in questo momento il più veloce del mondo a pochi giorni dall'uscita del gioco oggi ho veramente poco tempo quindi non vi sto ad andare a introdurre un argomento ve ne andremo a introdurre in seguito altri nei prossimi giorni magari vi porteremo dei contenuti diversi magari delle top simili a quelle di ieri appunto sul nuovo call of duty black ops 4 andandovi a elencare magari alcune cose vi daremo comunque ulteriori notizie su call of duty black ops 4 nei prossimi video pertanto raga io vi chiedo di iscrivervi al canale se ancora non vi siete iscritti di lasciare un bel mi piace a questo video siccome si tratta di un record del mondo commentare come già detto qua sotto per tutte le domande sia su call of duty black ops 4 che su questo video che comunque per qualunque cosa seguiteci anche in live streaming perché comunque streameremo abbastanza spesso oggi raga questo video è uscito un po' in ritardo perché ho avuto appunto stamattina un intervento tecnico sulla connessione e ho la connessione da pochissimo e di conseguenza faccio questo commentary e carico il video prima possibile spero di caricarvelo addirittura prima di cena penso di riuscirci e niente raga qui il video sta giungendo al termine io vi chiedo come già detto di lasciare un bel like passare dal canale di zombie che si troverà qua sotto in descrizione ovviamente raga fateli i complimenti perché questo è un gran bel gameplay zombie ieri mi aveva detto che avrebbe quittato call of duty black ops 4 dopo poco ha fatto questo gameplay quindi spero che quitti più spesso come glielo ho già detto e niente raga il video è giunto al termine un bel like un commentino e ci si becca al prossimo video bella non ti piace il gtf figa ammazzati figa sparati quando arrivo devi farmi passare